da zaino tutti benvenuti a questo mio nuovo video in cui oggi voglio parlarvi di socrate visto che negli ultimi video vi sto parlando molto di filosofia ritengo che si è venuto il momento di parlare di quello che è il considerato il padre della filosofia tant'è vero che se quando si considerano i filosofi antichi si è soliti divideli tra presocratici presocratici e post socratici e socratici sostanzialmente perché questo perché se vogliamo dirla lacunna socrate ha causato diciamo una rivoluzione copernicana all'interno della filosofia le filosofie antecedenti a lui i filosofi antecedenti a lui studiava eraclito anassimandro eccetera eccetera parmenide studiavano natura il cosmo le leggi del cosmo le leggi della natura le leggi di quello che era fuori da loro invece per socrate l'oggetto di studio della filosofia è l'uomo l'uomo è il senso che lui vuole dare all'esistenza quindi lo scopo della filosofia non è lo studio della natura di come funziona natura in diciamo un po in relazione con le scienze quindi filosofia coincide con la scienza della natura come sarà poi per aristotele che è un un discepolo di platone che a sua volta era un discepolo di soga è stato un discepolo di socrate aristotele ritornerà allo studio della natura però comunque lui invece decreta che l'oggetto di studio della filosofia è l'uomo e come si fa a studiare l'uomo attraverso il dialogo infatti lui non ha scritto nessuna opera hanno parlato di lui altri suoi contemporanei ha parlato di lui soprattutto platone il suo discepolo per eccellenza che ha scritto tutti i dialoghi in cui c'era socrate che parlava con un suo contemporaneo e quindi che cosa si può dire di socrate pensiamo allora in questo video io voglio un po raccontare la vita di socrate le sue le sue azioni più che le sue opere perché comunque sono le sue azioni suoi comportamenti diciamo che parlano per lui e la sua fine perché quella la cosa più importante e poi che senso ha che senso voglio dare all'attualità in socrate e anche a questi miei video potremmo già anticipare qualcosa perché voi quando vedete questi video cosa fate li ascoltate poi finita lì oppure li ascoltate e trovate degli spunti per poi approfondire la vostra conoscenza la vostra ricerca perché i miei video come vi ho già fatto notare nel video il diario degli errori sono pieni di errori di cose sbagliate di perché io non sono un filosofo cerco di divulgare cultura ma non non ho il retroterra culturale della filosofia sono laureato in matematica sono laureato in psicologia o mi interesso ho letto dei libri di filosofia ma non certamente non ho la laurea in filosofia quindi però cerco di divulgare questo pensiero perché la filosofia è la base della scuola secondo me è la base dell'insegnamento dell'apprendimento e infatti socrate è stato soprattutto un grande didatta cioè un uno di quelli che insegna di insegnare ok si potrebbe dire al giorno d'oggi no quindi se uno vuole fare una scuola per imparare a insegnare dovrebbe andare da socrate in sostanza solo che è morto quindi forse si potrebbero leggere le sue opere si potrebbe vedere cosa ha fatto nella sua vita studiare la sua vita perché come abbiamo detto anche nei video precedenti non bisognerebbe separare le opere di una persona o le conoscenze che abbiamo una persona dalla sua vita dalla sua esistenza dal senso che lui è dato alla sua esistenza infatti che poi è ispirato tanti dopo di lui socrate è nato nel 470 ad atene da una madre levatrice ostetrica cioè che faceva nascere i bambini ed è un padre scultore poi ha studiato matematica aritmetica geometria insomma ha studiato astronomia è andato in guerra nella guerra del perloponneso che è stato l'unico momento in cui si è allontanato da atene dalla sua città e perché poi lui è stato servitore della sua città non ha mai voluto abbandonare atene sempre stato lì presente e con sua moglie e viveva lì con sua moglie santippe e infatti ci sono degli aneddoti su di lui che sono interessanti e che vorrei raccontarvi lui andava in giro dialogando con le persone perché l'opera del filosofo non era scrivere perché la scrittura fissa le cose no invece la conoscenza per lui era una ricerca continua è come un uno vuole conoscere un oggetto di studio qualsiasi sia la giustizia il bene la l'intelligenza la lo stato ideale qualsiasi cosa vuole studiare non si studia solo sui libri bisogna studiarlo anche conversando dialogando con le persone cioè il suo strumento principe era il dialogo e questo è molto importante anche platoni infatti nei suoi scritti sono tutti scritti dialogici dove socrate dialogo con un altro personaggio e discute sul senso della della sua filosofia e quindi lui cosa faceva usciva di casa e per esempio sua moglie la mandava a comprare il pane lui usciva di casa stava fuori un tot di ora a volte anche dei giorni e poi tornava con qualcos'altro quindi la moglie si lamentava sbrettava contro di lui e quindi bisticciavano sempre perché lui si dedicava allo studio della conoscenza al parlare con le persone intomellare le persone per usare il suo metodo socratico principe che era appunto il dialogo e la ricerca della verità lui ha stabilito che la filosofia è la ricerca della verità la ricerca della conoscenza che si fa appunto con questo metodo del dialogo e quindi lo faceva e sua moglie sbrettava contro di lui e un tanto è vero che un giorno lui era sotto casa sotto la finestra la la moglie li ha invito per l'ennesima volta contro ingiuriandolo in tutti i modi lui non non comunque non saliva perché continuava a chiacchierare con il suo compagno e a un certo punto la moglie allora gli ha lanciato un secchio d'acqua dalla in testa addosso e gli amico gli chiesto ma come mai si comporta si è comportata così cosa è successo allora socrates gli ha detto beh insomma dopo che ha tuonato tanto era normale che piovesse no lui usava questo metodo che era l'ironia e infatti diciamo che lo diciamo il dialogo era per lui sia mezzo che scopo e come funzionava questo dialogo per socrate innanzitutto c'era l'ironia appunto l'ironia consisteva nel esaltare nel compiacere l'interlocutore nel dirgli quanto era bravo quanto era competente sull'argomento poi però c'era la brachilogia cioè venivano fatte certe domande approfondite sempre più affrontate che su quell'argomento che per cui la persona cominciava a porsi anche lui delle domande ok dicevamo forse non è che lo conosco così bene questo argomento e infatti alla fine si arrivava alla confutazione e questo poneva l'interlocutore in una sorta di disagio che lo spingeva ad approfondire la sua conoscenza a cominciare anche lui la ricerca della verità infatti nel mito della caverna che abbiamo raccontato è proprio questo che deve fare il saggio deve ricercare la verità ma anche convincere gli altri dell'usurità delle convinzioni che hanno nel presente e del fatto che la conoscenza è una ricerca continua per lui la virtù perché è la ricerca continua della di quello che succede attorno a noi del significato delle cose e si fa questa fa questa ricerca si esegue attraverso la scienza che hai metodo scientifico la scienza del bene quello che lui chiama scienza del bene a cui si arriva e grazie alla quale si perviene al sapere razionale e aristotele lo ha elogiato in questo anche se poi si è distaccato sia da socrate che da platone che sono stati tutti discepoli uno dell'altro socrate è stato il maestro di platone e platone a sua volta è stato il maestro di aristotele e quindi per questo voleva ingenerare la curiosità nelle persone per cui approfondivano la conoscenza alla fine mettevano in crisi le loro conoscenze e approfondivano meglio quello che sapevano e aggiungevano a riconoscere che la loro conoscenza non è assoluta infatti il suo principio base è il saggio è colui che sa di non sapere io so di non sapere diceva la nostra ignoranza è infinita perché per quante cose possiamo sapere conoscere rimanano sempre infinite le cose che invece non sappiamo questo però non ci dovrebbe portare a rinunciare e ad accontentarci di quello che sappiamo ma dovrebbe portarci invece a condurre tutta la nostra vita in una ricerca continua di conoscenza quindi per lui il dialogo è sia mezzo che fine ok il fine viene realizzato attraverso la costruzione della definizione di concetto e questo a livello didattico si applica nel nel porsi la domanda che cos'è quando noi vogliamo studiare qualcosa ci dobbiamo chiedere subito che cos'è e socrate fa notare che quando ci si chiede che cos'è la maggior parte che cos'è la giustizia che cos'è che ne so la verità che cos'è la virtù che cos'è il male sono tutte domande che lui si è chiesto a cui lui ha dato una risposta e la maggior parte della gente riporta degli esempi senza riuscire a costruire la definizione e quando si rende conto che non riesce a costruire la definizione una definizione completa esauriente allora comincia a mettere in crisi le proprie conoscenze quindi a livello didattico già c'è un consiglio non presentiamo non so la funzione è puntini puntini ma chiediamo prima gli studenti che cos'è una funzione secondo voi perché gli studenti non sono delle tabule rase hanno tutte le conoscenze pregresse delle idee delle precomprensioni del mondo e quindi a partire da questo poi si costruisce il sapere non viene inculcato ok per per lui l'insegnante non è quello che riversa contenuti semplicemente agli studenti che poi li ripetono ma deve giungere a portare gli allievi a costruirsi i contenuti a partorire i contenuti come faceva sua mamma che era partoriente le part le ostetiche scusate le ostetiche erano per definizioni sterile cioè loro non 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 in passato non 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 figliavano cioè non producono dei contenuti che vengono inculcati ma devono insegnare le altre partorire quindi l'insegnante è quello che insegna ad auto insegnarsi agli allievi perché se no non è un bravo insegnante insegnante che spiaccica lì delle cose che gli allievi ripetono non è un bravo insegnante questo cerchiamo di capirlo bene ok se vogliamo essere dei bravi insegnanti e poi lui cosa ha fatto ha messo in crisi tutte le conoscenze del suo tempo cioè andando in giro con l'auto ironia a convincersi a convincere le persone dell'illusurità delle loro conoscenze ha cominciato e lavorando anche facendo anche il maestro poi di gente che era aristocratica perché lui ha cominciato con la gente comune ma poi anche gli aristocratici volevano formarsi con lui però mettevano in crisi le loro conoscenze allora questo ha cominciato cioè quando poi c'è stata la rivolta contro i tiranni che sono stati mandati via ha cominciato a gli aristocratici ha cominciato a mettere in crisi anche il pensiero che sembrava più democratico quindi lui metteva in crisi anche la religione perché sosteneva che andava bene il politeismo però le idee non potevano essere antropomorfe poi comunque c'erano tante idee ci doveva essere un dio ispiratore di tutto un dio che da cui dipendevano tutti questi dei che conosce che aveva la conoscenza suprema e quindi questo ha messo in crisi le conoscenze del tempo tra l'altro poi lui non non si interessava proprio della politica di palazzo diciamo ma della politica delle persone comuni oppure delle persone che istruiva e mettendole anche in crisi e quindi alla fine è stato accusato perché appunto ha criticato il suo tempo ha messo in crisi il suo tempo è stato accusato è stato processato condannato a morte e platone proprio nell'apologia di socrate non racconta il suo processo e dice proprio che nel processo c'erano quelli che i super sapienti no quelli che credevano di sapere tutto cioè i dormienti e che invece non interessava più di tanto di sapere il vero sapiente era socrate che era l'unico però che fine ha fatto è stato condannato a morte poi ha bevuto la cicuta e si è lasciato morire si è sacrificato per la società nonostante gli amici hanno dato la possibilità magari di fuggire eccetera non lui ha voluto sacrificarsi come hanno fatto come è successo tante persone se ci pensiamo guardiamo la storia quante persone hanno messo in crisi il loro tempo e sono stati uccisi hanno cercato di cambiare la realtà potrei fare un elenco infinito partendo da moro partendo da kennedy da lady d da marcom hicks gandhi tutte persone non è che gli hanno fatto il processo però casualmente hanno messo in crisi le conoscenze del loro tempo e sono morti hanno fatto una brutta fine io spero che non sia così anche galileo galileo pensiamo a galileo galileo è socrate è la reincarnazione di socrate galileo ha scritto un il dialogo sopra i due matti massimi sistemi del mondo il sistema tolemaico e sistema copernicano in cui metteva in crisi il pensiero geocentrico che dominava la cristiana il pensiero cristiano no della chiesa cattolica la terra al centro dell'universo al certo del sistema solare e propugnava la in questo suo dialogo dove c'erano tre personaggi simplicio sagra sagrado e salviati e simplicio era l'alter ego del papa che aveva delle teorie ingenue geocentriche veniva preso in giro e poi c'era galileo costava anche dei passi della bibbia insomma quindi la chiesa romana il collegio romano ha cominciato a storcere il naso e quando lui ha voluto per forza pubblicare il suo libro gli hanno fatto un processo e non è costretto ad abbiurare le sue teorie quindi non è stato ucciso ma praticamente è stato ucciso perché come se l'avessero ucciso simbolicamente quindi questo è il destino che tocca a chi va contro i propri tempi io spero di no magari forse ci possono essere delle uscite diverse da questa io spero anche perché io con questi video cerco proprio di di mettere in crisi le conoscenze a cui noi crediamo così tanto che noi abbracciamo è vero che adesso il novecento ha messo in crisi noi tutti critichiamo il consumismo però ci siamo dentro perché ci sembra l'unica via d'uscita non riusciamo a uscire da questa da questo loop perché c'è stato insegnato che l'unica alternativa è il consumismo l'unica alternativa è il capitalismo l'unica alternativa è l'economia non ci sono altre alternative per fare andare avanti il mondo ne siamo così convinti arrivederci a tutti